Ma in questo quadro avete visto, il titolo è questo, Telecom multata, pratiche scorrette, no alla debito di chiamate fatte per colpa di virus informatici, che non è vero virus informatici, truffe informatiche. E la Telecom cosa ha fatto? Sempre pagare le famose telefonate fantasma, gente che si trova centinaia di euro da pagare, perché? Perché tu hai chiamato l'isola Tonga, perché hai chiamato le isole Figi, perché hai chiamato non so che cosa, tuo zio morto da 30 anni in paradiso, pensa a cosa costa una telefonata in paradiso, siamo a questi livelli, e quindi la Telecom, ma non solo la Telecom, la Telecom in buona compagnia, perché è stata la Elsa Com, l'Eutelia, la Carupa, la Teleunit, la Voice Plus, Dream TV, Teleges, Aurora, insomma c'è l'elenco di tutte queste società che hanno fregato miliardi di euro ai cittadini italiani che adesso hanno preso la multa, ma multa di quanto? Perché c'è da ridere, 2 milioni e 340 mila euro, che in sé non sono poi proprio da ridere, ma divise tra le varie aziende, a fronte dei miliardi che hanno rubato a milioni di cittadini, sono niente, e questo allora cosa vi fa già capire? Che questi continueranno a rubare, perché se io ogni 100 euro che rubo mi danno 2 euro di multa, ma siamo sinceri, cosa fareste voi? Se ogni 100 euro che rubate vi danno 2 euro di multa, ve li continuate a rubare oppure la smettete? Beh, mi sembra abbastanza chiaro.